In Power Inspect è possibile misurare anche senza CAD, con la stessa facilità che si ha con un CAD. Tipicamente il primo passo è quello di creare un allineamento. In questo esempio verrà utilizzato un allineamento PLP con piani, cerchi e linee. Dopo aver creato l'allineamento PLP, cliccare Esegui tutto e rilevare i punti desiderati. Power Inspect può misurare diversi tipi di feature. Qui verranno misurati un cono ed un poligono. Per definire un cono è necessario un minimo di 7 punti. Per definire un poligono è necessario avere almeno due punti su ogni bordo. Dal proprio componente è possibile anche creare delle curve digitalizzate. Una volta finito di prendere tutti i punti, è possibile esportare i risultati come un file CAD. Ci sono molti tipi comuni di file in cui è possibile esportare, incluso i EGES. Grazie. 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 Grazie.